ok ragazzi oggi 11 febbraio è il giorno della mia prima volta su una monorotaia siamo qui in darling harbour e la monorotaia sta arrivando tra poco lo vedremo spuntare dagli tre barriere abbiamo tutto lo skyline di sydney 8 4 7 7 8 8 8 10 11 13 Grazie a tutti.